Si è concluso questa mattina il settimo congresso nazionale organizzato dall'ASME, associazione senologica del Mediterraneo, presso l'hotel Scapolatiello della Badia di Cava dei Tirreni, tema di quest'anno il carcinoma della mammella, stato dell'arte, sul quale sono intervenuti in qualità di relatori i più grandi esperti di settore in campo internazionale. La giornata di studio è indirizzata a medici di base, oncologi, medici, chirurghi, ginecologi e diversi professionisti a contatto quotidiano con le mille sfaccettature di questa malattia, ha previsto al termine di essi il rilascio agli iscritti di 12 crediti validi per l'aggiornamento professionale per tali categorie. Nella due giorni del congresso sono state esaminate tutte le nuove acquisizioni inerenti, tale è patologia sempre più frequente nel sesso femminile e diagnosticata in età sempre più precoce. Ampio spazio è stato dedicato al forum senologico www.asme.forump.it Primo ed unico forum in Italia monotematico sul cancro della mammella che si avvale della collaborazione di 19 gruppi di esperti che rispondono in tempo reale gratuitamente a tutti i quesiti inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie mammarie.